Ciao ragazze, allora oggi un video tutto particolare per voi perché voglio aprire assieme a voi questo pacco in realtà l'ho aperto ma ho tolto solo lo scotch, si è gigantesco e pesa un sacco ed è della Universal Pictures, quindi sono curiosa di vedere che cosa mi hanno spedito allora, iniziamo, apriamo questo pacco gigantesco, che tra l'altro è anche pesantissimo e vi giuro che ha dovuto portarmelo in studio perché non ce la facevo e questa aiuta! Aspettate questa cosa ce la posso fare? Ah, sto distruggendo tutte le mie studio nel frattempo e questa è una borsa dei Minions che mi hanno spedito sapete che mi piace, mi piacciono molto i Minions, anche il giochino sul cellulare e quindi vediamo assieme che cosa mi hanno messo dentro allora, qui c'è, oddio, ci sono tantissime banana ragazzi vi giuro questo è il pacco più strano e assurdo che abbia mai ricevuto ma ci sono veramente tantissime e poi, allora, aspettate, arriviamo all'ora un pochino più normale mi hanno spedito questa maglietta Team Kevin con uno dei Minions poi potrò fare un sacco di frullati se non altro con tutte queste banane allora, poi ci sono dei pupazzetti piccolini e morbidosi io impazzisco per queste cose morbidose, voi lo sapete se mi seguite da un po' perché ve lo dico spesso, io impazzisco per queste cose e ci sono i pupazzetti dei Minions anti-stress tutti morbidi, squishy squishy anche questo poi tantissime altre banane mettiamo da parte anche queste, ce la posso fare poi altre banane ancora, ve lo giuro, cioè io non lo so qui c'è, cos'è questa? Un'agenda, è un diario è un diario tutto giallo dei Minions all'interno c'è, niente, bene, è un semplicissimo quaderno cioè non so che cosa cercassi io all'interno un quaderno dei Minions anche questo in tema e poi c'è questo pacchetto che adesso apriremo assieme anche qui ci sono gli adesivi dei Minions non so se se riesce a vedere qualcosa in questo video veramente ma apriamo e vediamo che cosa c'è oddio e qui c'è, allora, a parte che c'è un'altra banana qua veramente, io non lo so ci sono un sacco di popcorn tantissimi, tantissimi popcorn e un'altra banana sto trovando un salmissetto un po' come nel videogioco dei Minions quello per l'iPhone, se avete presente che colleziono le banane e questi sono popcorn che vi giuro mi mangerei perché non ho pranzato e ho una fame tremenda quindi, ma sono comestibili e poi c'è anche il casco tipico dei Minions con la lucetta pure, chissà se si accende altre banane ancora ebbene sì, cioè veramente anzi, avete bisogno di banana ragazzi scrivetemi il vostro indirizzo qua sotto come ne mando qualcuno a parte questo poi ci sono dei portachiavi sempre dei Minions diversi portachiavi che carini che sono questi uno è verde, uno è azzurro e uno è arancio anche questi sono tutti morbidosi poi un'altra cosa che c'è nella borsa c'è questa busta anche questa rigorosamente gialla che apriremo assieme adesso e vediamo che cosa c'è allora c'è scritto cara Nicole, Universal Pictures e la scuola di moda Central Marti sono il piacere di invitarti a Minions Collective un esclusivo evento di moda completamente unico e coinvolgente gli studenti del corso di Foundation Fashion presenteranno i capi dai loro disegnati che si ispirano all'essenza dei Minions la stagione primavera è stata 2015 sarà dominata dalle tendenze Minions l'inaspettato ti aspetta domenica 26 aprile alle 12 a Londra quindi ragazzi e ragazze vi so proprio che tra pochissimo tipo tra tre giorni partirò per Londra nonostante io ci devo andare già il mese dopo il mese prossimo a maggio per il Beautycon mi sa che ci andrò anche adesso quindi si va a Londra con la Universal Pictures e con i Minions e io naturalmente vi poi saprete tutto come è andato l'evento e tutto documenterò tutto quanto non lo so mi sto chiedendo se veramente riceverò banane ovunque comunque ragazze ragazzi questo ah no sto per dirvi che è tutto ma mi è arrivata un'altra cosa che voglio aprire con voi eccomi scusate ce la posso fare ed è non lo so che cosa sia cioè è questo tubo che sto cercando di aprire da un po' ok magari dall'altra parte ce la posso fare ed è cos'è? un poster? ops ah che figata ok magari se ve lo faccio vedere dalla parte giusta riuscite a capire qualcosa Meet Stuart Kevin and Bob e quindi mi sa che li incontreremo a Londra ragazze ragazzi questo per oggi è tutto ah adesso ho notato che sulle banane c'è anche scritto minions vabbè a parte questo ho detto ho detto veramente questo video vi giuro non mi bevo le grappe prima di filmarlo ve lo garantisco comunque ragazzi ragazze questo è tutto io vi porterò con me naturalmente a Londra a questo punto e vi mando un bacio gigantesco e alla prossima ciao ciao